Il rigore fallito domenica scorsa contro il Chievo non ha intaccato le sue sicurezze. Il centrocampista del Bari, Massimo Donati, è pronto a giocare un grande finale di stagione. Il callo di rendimento del mediano di Bergamo è coinciso con la crisi dei risultati della squadra. Il momento nero sembra ormai alle spalle. La trasferta a Capitolina di domenica prossima contro la Lazio potrebbe sancire la definitiva resurrezione dei biancorossi. In una stagione ci sono momenti positivi, momenti negativi, però io ho sempre pensato che la cosa importante è la squadra. Se adesso la squadra è tornata alla vittoria era quello che ci mancava soprattutto e adesso siamo contenti e pronti a continuare bene questa stagione. Contro la Lazio Donati potrebbe ritrovare una maglia da titolare. Gazzi infatti non ha ancora smaltito l'affaticamento muscolare al retto femorale. Il clima dell'Olimpico si preannuncia infuocato. La Lazio, invischiata nella lotta a retrocessione, è alla ricerca disperata di punti. Il Bari potrà contare su 5.000 tifosi al seguito, uno stimolo in più per superare la formazione di E di Reia. Troveremo un ambiente sicuramente difficile per noi perché loro sono in difficoltà, devono vincere a tutti i costi, quindi è normale che sarà per loro una battaglia che devono assolutamente vincere. Noi non andiamo lì per già sconfitti o pensiamo di andare a fare una vacanza e tornare con niente in mano perché se no possiamo acquistarsene a casa, quindi andiamo, cercheremo di fare la nostra partita al meglio e cercando di avvicinarsi anche al loro livello di rabbia e di voglia di vincere perché loro l'avranno sicuramente a livelli altissimi.